Ospite d'onore sarà Robby Facchinetti, uno dei Pù, che essendo di Bergamo ha vissuto una delle esperienze italiane peggiori nell'epoca della pandemia da Covid-19. Il Comune di San Giuliano del Sannio lo farà oggi cittadino onorario, accogliendolo con grande affetto. L'iniziativa avverrà nell'ambito di una giornata speciale, voluta ed organizzata dal Comune e dalla CISL Funzione Pubblica e da altre associazioni, per onorare tutte quelle persone che, attraverso l'impegno quotidiano, hanno aiutato gli altri nel periodo della pandemia. Operatori sanitari, ma non solo, tutti loro sono meritevoli di un riconoscimento davvero sentito. Ha una valenza importantissima, sia dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista di spettacolo. Dal punto di vista sociale, il ringraziamento va alla CISL, alla Funzione Pubblica, che con nobile iniziativa, in mio avviso, vuole, diciamo, riconoscere e dare dei riconoscimenti a tutti quelli che con coscienza e con impegno si sono praticati durante il periodo critico della pandemia. E poi abbiamo una grande presenza di un grande artista come Robby Facchinetti, che ha dato la sua disponibilità. Lui è di Bergamo, è stato duramente colpito con la perdita di amici, di collaboratori, tant'è vero che ha anche realizzato una canzone di Rinascerai. Noi siamo onorati di ricevere questo evento, abbiamo dato subito la nostra disponibilità. Ringrazio l'associazione che si è costituita da poco, Rinascerò, che ha curato tutta l'organizzazione e certamente sarà sicuramente una grande serata con personaggi, autorità e penso che richiamerà tanta gente.